Musica Benvenuti al TG10, apertura del telegiornale, oggi c'è la pagina politica, ci occupiamo in particolar modo della ferma presa di posizione da parte del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di Gela. I grellini tornano alla carica e chiedono nuovamente la sfiducia del sindaco messinese e del suo vice siciliano. Votare la sfiducia al sindaco Domenico Messinese e all'assessore Simone Siciliano, il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle torna alla carica e come dall'arresto accaduto in altre occasioni lo fa in maniera assai diretta elencando le manchevolezze di chi gestisce l'ente comune. Questa è la giunta che incarna in sé qualunque violazione di principio democratico, propone un bilancio e lo propone con un sistema che lo rende immodificabile, diciamolo subito ai cittadini, nessuno ha potuto toccare questo bilancio. Questa è una giunta tra l'altro molto anomala perché parla il vice sindaco, un soggetto che mai è stato eletto e dichiara degli orientamenti politici, dei fantomatici orientamenti politici di centro non subito chiari. Ci chiediamo il sindaco che si abbia fatto che è stato l'unico soggetto eletto. Lo fa tradendo quello che è il mandato elettorale perché la giunta, il sindaco, si sono presentati ai cittadini con il Movimento 5 Stelle e con un programma specifico e lo fa in maniera assolutamente antidemocratica. Queste sono delle ragioni chiarissime per le quali chiedere la sfiducia e poi c'è una verità assoluta. I cittadini lo stanno vedendo che questo è un sindaco che non porta benefici alla città. Un esempio solamente. Avevamo chiesto di modificare il sistema di tutena delle strade rurali. Sapete che cosa fa il sindaco? Anziché proteggere le strade rurali, gli destina delle mere briciole e poi dice delle cose che non corrispondono a quelle che sono i reali orientamenti. In particolar modo, Morgana, cosa dice che a voi non piace affatto? Sostanzialmente il sindaco afferma di stare facendo dei progressi in termini di tutela dell'agricoltura, per fare un esempio, o di tutela dei servizi sociali. Ma invito tutti a vedere quali sono le somme destinate a questi ambiti. Praticamente zero, le cose sono due. Ma o il sindaco non ha ben chiaro che per far bene a una città serve destinate somme importanti a determinati settori, oppure il sindaco vuole semplicemente fare uno slogan e dietro non c'è assolutamente nulla. I grillini in Consiglio Comunale, attraverso una nota, sottolineano che l'arresto della giunta risulta politicamente non pervenuto. Basta guardare quelli che sono i media, parla semplicemente sempre il vice sindaco Simone Siciliano, parla addirittura quando non dovrebbe neanche farlo. Lo fa quando dovrebbe parlare il sindaco. L'orientamento politico di una giunta, le linee programmatiche, quelle che sono le identità di una giunta, vanno tracciate dal soggetto eletto dalla gente, dal popolo, non da un nominato. Noi non ce l'abbiamo con nessuno. Noi facciamo semplicemente delle valutazioni politiche e in questo caso la valutazione è pesantemente negativa. E adesso parliamo dei gravi disagi che vivono quasi 80 bambini disabili costretti ad attendere anche due anni per essere sottoposti alle cure riabilitative di cui necessitano la denuncia e dell'associazione H di Gela, pronto o un esposto da presentare in procura. Un'ottantina di bambini disabili costretti ad attendere anche due anni per essere sottoposti alle cure riabilitative di cui necessitano la denuncia e dell'associazione H che chiede all'azienda sanitaria provinciale di intervenire al più presto. A Gela sono attualmente due le strutture che offrono questo genere di servizi, l'Aias e il centro autistici. Il consulente legale dell'associazione H, Paolo Capici. C'è un ritardo di circa due anni per il trattamento riabilitativo dei bambini che hanno problemi di autismo o di ritardo psicomotorio che è vergognoso e inconcepibile. I bambini sono, come si dice, sacri, hanno una priorità assoluta. Non possiamo assistere agli sperperi dell'ASP che va spendendo i soldi per cose magari superflue e mettere i bambini in lista d'attesa per due anni. Dal punto di vista umano è una vergogna, dal punto di vista legale si rischia anche una denuncia per danno permanente. Dal nostro punto di vista, se l'ASP non risponde, noi abbiamo fatto la diffida circa una settimana fa e i signori di Caltanessetta ancora non si sono scomodati, né tantomeno la presidenza della regione rappresentata dal nostro concittadino Crocetta e pensano di avere attenzione per questi bambini. Se non lo faranno loro, lo faremo noi attraverso una denuncia alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, perché riteniamo che ci sia distorsione di spesa e comunque al di là di ogni giustificazione che si possa presentare, non è assolutamente congepito. Qua parliamo di bambini che vanno da zero anni a due anni, cioè significa non intervenire in questa fascia, significa rovinare i figli dei genitori che hanno già un problema enorme. Si tratta, continua Paolo Capicci, di un problema che rappresenta una fonte di grave ed irreversibile documento tanto per i bambini che per le famiglie che devono affrontare costose terapie che invece dovrebbero essere assicurate dalle ASP. I bambini non possono attendere neanche un giorno, c'è uno spreco puro e crudo nella sanità. Bisognerebbe dare priorità assoluta a queste famiglie e razionalizzare al meglio i fondi destinati alla sanità. Un bambino in età precoce può recuperare fino all'80% delle sue capacità. Stiamo parlando, rimarca Capici, di bimbi che hanno un'età compresa fra i 3-4 mesi fino a 3 anni. Perdere anche un solo giorno può arrecare a questi bimbi danni irreparabili. C'è anche un altro fatto grave che nessuno sorveglia come sono ripartite le somme e le risorse umane. Quindi è bene che qualcuno si organizzi perché altrimenti nel giro di 10 giorni una famiglia mi ha dato incarico di agire davanti al Tribunale Civile per un ricorso di procedura di urgenza, come si dice in gergo X700 e inoltre io sono già pronto per manifestare tutte le nostre lagnanze alla Procura e agli organi competenti. È prevista per lunedì 7 novembre alle 9.30 l'Assemblea cittadina del coordinamento della Federazione Nazionale Pensionati. L'incontro si terrà in via Generale Cascino 68 a Gela. Saranno dibattuti i temi e le problematiche che attanagliano i pensionati. Aprirà i lavori il coordinatore Orazio Ciaccia e relazionerà il segretario generale territoriale di Agrigento, Caltanissetta e Denna, Salvatore Montalbano. Chiuderà i lavori il segretario regionale della Federazione Alfio Giulio. Inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017 dell'Uni 3 di Gela, preseduta da Angela Scaglione Altamore. Si terrà sabato 5 novembre alle 17.30 presso l'auditorium del liceo classico Eschilo di Gela. Saranno presenti tra gli altri Aldo Cibona, il dirigente scolastico Giacchino Pelitteri e l'assessore comunale Francesco Salimitro. Le luci del teatro Eschilo stanno per riaccendersi sui giovani del CESMA. È tutto pronto per la quindicesima edizione del progetto artistico e musicale con protagonisti ragazzi del centro giovanile della parocchia Regina Pacis. In scena la quarta edizione di The Lion King, la favola della Disney che il CESMA ha già portato sul palco in oltre 30 repliche. Il primo spettacolo si terrà domani, mentre le altre due repliche sono in programma l'11 e il 12 novembre, con inizio per tutti e tre gli spettacoli fissato per le 10.30. Appuntamento speciale sarà la serata della solidarietà in programma domenica 13 novembre alle 20.30, sempre all'Eschilo, in un evento proposto a tutta la città. Con il relativo incasso, un biglietto costerà 10 euro, unito ai proventi degli spettacoli rivolti alle scuole, verranno finanziate micro realizzazioni per le scuole di Amatrice, colpita dal terribile terremoto del 24 agosto scorso. Durante il periodo estivo abbiamo fatto un gemellaggio con una parrocchia di Enna, che aveva dei contatti per via di una squadretta di rugby e quindi aveva dei contatti con Amatrice, con i giocatori e quindi da lì è nato questo desiderio di dare una mano finalizzata, individualizzata e quindi in virtù di quello che è il sito che hanno predisposto il sindaco e i consiglieri comunali di Amatrice, sceglieremo una delle tante cose di cui ha bisogno quella scuola. Quando si parla di solidarietà il Gerais è sempre pronto? Per la verità già noi abbiamo avuto una risposta sempre adeguata alle nostre proposte. prima per Cristina, la dottoressa Cristina Fazzi e l'anno scorso per la piccola Casa della Misericordia. Quest'anno per questo obiettivo penso che risponderanno tutti, soprattutto il 13 di novembre, quando faremo la serata, verranno da Enna e penso parteciperanno tutti quanti. Quando le vedo le immagini del devastante terremoto cosa pensa? La prima cosa che penso è che potrebbe capitare a noi, perché è da parecchio tempo che qui non si verifica una cosa simile dalle nostre parti, dico nella Sicilia orientale e quindi potremmo essere noi nelle loro stesse condizioni e quindi ci vuole una forza d'anima e quindi essere preparati a ogni eveniente come del resto un cristiano, una persona seria deve essere pronta ad ogni evenienza. Bisogna solo pregare? No, non basta pregare. La preghiera è ricca e per essere ricca ha bisogno di un contatto, di ricevere le energie di Dio per poi essere fattivi. A conclusione dell'anno santo della misericordia si stanno svolgendo presso la chiesa di Sant'Agostino a Gela alle 18 varie celebrazioni giubilari di associazioni e movimenti presenti in città. Questo cammino giubilare segna la preparazione dell'apertura del centro di spiritualità e del dormitorio per le famiglie disagiate e gelesi presso il convento di Sant'Agostino che si svolgerà domenica 13 novembre alle 10.30 con la celebrazione eucaristica preseduta dal vescovo di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisara. In quel giorno si chiuderà la porta santa nella casa della misericordia concludendo l'anno santo così come stabilito da Papa Francesco. Caltanissetta protagonista, i rappresentanti del Comitato Nazionale Cosino e gli altri comitati del No sabato 5 e domenica 6 novembre scenderanno in piazza tra la gente per spiegare i punti essenziali del referendum per il quale gli italiani saranno chiamati alle urne il prossimo 4 dicembre per rispondere al quesito sulle disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento del costo di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNL ovvero il Consiglio Nazionale delle Economie del Lavoro e la revisione quinta della parte seconda della Costituzione. Per l'occasione saranno infatti allestiti in corso Vittorio Emanuele e in piazza Falcone Borsellino dei Gazebo per spiegare le ragioni del no per la riforma della Costituzione anche tramite la distribuzione di volantini. Sabato alle ore 16.30 fino alle 20.30 saremmo in corso Vittorio Emanuele con un banchetto informativo, come ha detto lei, non soltanto Caltanissetta protagonista ma anche altri comitati spontanei e altri gruppi politici che chiaramente voteranno e faranno votare no al referendum. Saremo anche sabato, domenica alle 9.30 fino alle 13 in piazza Falcone Borsellino, sempre con questo chiosco informativo e spiegheremo ai cittadini le ragioni del no. È una cosa che dobbiamo per forza fare perché anche i mass media in alcuni aspetti non specificano bene cos'è che si va a votare e pensiamo che con un volantinaggio ma soprattutto incontrando le persone dei visu possiamo essere molto più diretti e spiegare le ragioni del no. Perché voi siete a favore del no? Siamo a favore del no perché soprattutto questa riforma costituzionale che deve essere fatta, non deve essere fatta in questa maniera perché le riforme bisogna condividerle e secondo noi questo non è proprio una riforma condivisa. Poi dobbiamo spiegare bene che i luoghi comuni come per esempio il taglio dei costi alla politica in realtà è una bufala e noi spiegheremo il motivo perché è così e anche il fatto del bicameralismo perfetto che esiste in Italia è giusto che venga mantenuto e che questa forma di Senato che invece vuole proporre Renzi e chi comunque voterà il sì non è per nulla una cosa che ci sta bene. Sarà presentato domani alle 17 nell'aula magna del liceo classico Eschilo di Gela il libro L'Isola più bella di Calogero Miciche. L'iniziativa è dello stesso istituto scolastico dell'Archeoclub d'Italia e della libreria Mondadori. Fai la cosa giusta, differenzi ai rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi giovedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione il vetro nella pattumiera di colore verde in dotazione. Cosa conferire? Bottiglie prive di tappi, fiaschi senza paglia, barattoli e vasetti, bicchiere e brocche solo se in vetro non cristallo, vetri vari anche se rotti, contenitori vari in vetro per alimenti e non, senza tappi e o altri materiali diversi. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche, senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Rieccoci, seconda parte del telegiornale, c'è anche un militare gelese nel video promosso dal Ministero della Difesa che rievoca il profondo legame che unisce gli italiani e le forze armate. Si tratta, e la vediamo nella foto, di Anita Scicolone, 28 anni, dal 2012, arruolata nella Marina Militare, sotto capo telecomunicatrice. Il suo viso è stato scelto tra i tantissimi militari. Il video contiene il messaggio Noi per voi e rappresenta la determinazione degli uomini e delle donne e della difesa italiana sempre pronti a sacrificarsi quotidianamente al servizio del Paese quali garanti della tutela e della sicurezza collettiva. Proprio domani, 4 novembre, è prevista la festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, ma intanto vediamo il video. Domenica 6 novembre, alle 8.00. Sport e Natura saranno nuovamente protagonisti alla riserva naturale Biviere di Gela per la seconda edizione del trofeo Leopoldi a Dune Sprint Trail per corridori e camminatori di 10 chilometri ricco di avventura. L'associazione sportiva Sport Action organizza il circuito Eco Trail Sicilia aperto a corridori e camminatori agonisti e non agonisti. Il circuito si sviluppa in 18 tappe complessive che si svolgeranno nei parchi e nelle riserve naturali siciliane e dopo il grande successo dell'anno scorso, domenica, come dicevamo, arriverà al Biviere di Gela. Viaggio musicale attraverso la vibrazione delle corde e di una chitarra. Si tratta dell'iniziativa promossa a Gela dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra col patrocinio della Regione Siciliana, del Comune e del Museo Archeologico Regionale. Primo appuntamento sabato 5 novembre alle 19 nei locali del museo con il concerto jazz del duo Alessandro Locchiano-Tromba ed Emanuele Smecca-Chitarra. Nelle scorse settimane il Movimento 5 Stelle tramite il suo portavoce in Consiglio Comunale Giovanni Magri aveva chiesto una maggiore chiarezza sui rimborsi da parte di Caltacqua, la società che si occupa del servizio idrico in città per quegli utenti che risiedono nelle zone cittadine non fornite dal servizio di depurazione. E adesso il Movimento 5 Stelle torna sul tema. Caltacqua in una nota specificava che l'operazione di rimborso sta proseguendo con regolarità in assoluta trasparenza senza alcun margine di discrezionalità e nei tempi e con le modalità pianificate. E ancora si legge le procedure di rimborso relative all'utenza del Comune di Caltanissetta abbiate nel primo trimestre di quest'anno verranno ultimate entro il quarto trimestre. In quest'ultima tranche in particolare il rimborso sarà corrisposto a oltre 800 utenti. E poi ancora nella nota si fa riferimento all'operazione di mappatura di dettaglio delle utenze di particolari aree. Un lavoro che gli operatori di Caltacqua hanno dovuto realizzare con un evidente conseguenziale considerevole impiego di tempo, si legge ancora. Quasi porta a porta. In totale gli operai di Caltacqua hanno verificato più di 4.000 contratti. E la nota si conclude. Complessivamente sono 2.764 gli utenti aventi diritto al rimborso per un importo totale che supera abbondantemente i 900.000 euro. Si torna a parlare di questi rimborsi che sono importantissimi per i nostri cittadini, sono dovuti da parte di Caltacqua. Volevo fare un brevissimo escursus in modo da spiegare una volta per tutte quello che è accaduto. Più di due anni fa noi abbiamo fatto una interrogazione come Movimento 5 Stelle dove il sottoscritto poneva delle domande ben precise e diceva come mai questi cittadini che non usufruiscono del canone di depurazione stanno pagando questo canone. Da quel momento, grazie anche all'assessore Passorello che si è interessato velocemente di questa problematica, siamo riusciti a sbloccare questi rimborsi. Quindi adesso Caltacqua ci informa che fino a oggi ha rimborsato 900.000 euro, di questo noi siamo felici, però ancora non c'è trasparenza in questa operazione. Caltacqua ancora dopo tutto questo tempo non si capisce perché non dice ai cittadini quali sono le vie effettive che deve ancora rimborsare e quali no. Questo spetta a Caltacqua, non è che spetta a noi o al singolo cittadino andare a indagare. Quindi questo è già un fatto importante dove dobbiamo fare trasparenza perché Caltacqua attraverso il suo sito ufficiale, attraverso gli uffici deve fare una divisione della città dove spiegare semplicemente chi deve ancora essere rimborsato e chi non lo deve. Si darà sabato 5 novembre alle 17.30 presso il Museo del Cinema di Palazzo Pignatelli a Gela la mostra sui grandi campioni del pugilato italiano dal titolo Divi e Pugni, il cinema racconta la box. L'iniziativa è dell'Istituto Culturale di Sicilia per la cinematografia in collaborazione con il Comune e la Federazione Pugilistica. La pagina del cinema, appuntamento con il cinema all'antitoto di Gela e in proiezione il film, a lettere da Berlino, sono due gli orari, ve li ricordiamo, 19.30 e 21.30. Sempre all'antitoto è scattata la campagna abbonamenti per la stagione teatrale. L'abbonamento costa 70 euro, 55 euro ridotto per i giovani. Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici 338-7143-293, 330-225-442 e 0933-82-2707. Nuova stagione teatrale anche all'Eschilo dall'8 novembre in scena i più grandi artisti italiani del teatro e della televisione. Per informazioni recarsi in teatro ogni giorno dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20. Anche in questo caso ci sono dei recapiti telefonici 0933-9118-92 e 345-5880-580. Il prezzo dell'abbonamento è di 90 euro. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video.